Di uno a tenere banco in Abruzzo, nella nostra regione, anche a Pescara, la questione naia di le sindaco vuole andare avanti, siete determinati a prendere in gestione questo impianto e lei per lunedì ha convocato i sindacati che avevano chiesto tra l'altro un incontro proprio per parlare di questa situazione e per arrivare effettivamente alla possibilità di una riapertura immediata delle naia di. Allora intanto diciamo che il comune di Pescara è disponibile a prendere in gestione le naia di nella misura in cui la regione dovesse dirci prendete in gestione le naia di perché la regione sta facendo le sue valutazioni, è proprietaria dell'impianto, c'è un contenzioso con l'ATI che ha gestito l'impianto fino a qualche mese fa e la regione lo sta risolvendo. Abbiamo avuto la settimana scorsa un incontro con la regione che ha chiesto due settimane per verificare se il project che gli uffici stanno valutando possa essere portato avanti e in quali tempi. In quel caso la regione è pronta anche a riaprire l'impianto senza coinvolgere il comune e in quel caso noi tranquillamente accetteremo le decisioni che la regione prenderà perché a noi interessa che l'impianto riapra, che l'impianto funzioni e quindi siamo a disposizione di chi proprietario dovesse dirci prendete in gestione l'impianto per farlo funzionare. Noi ci siamo, a qualsiasi momento siamo pronti e aspettiamo. Per quanto riguarda l'incontro con i sindacati me lo hanno chiesto, io non rifiuto l'incontro a nessuno, sentirò le loro ragioni, ovviamente mi farò parte di l'igente per trasferire eventuali richieste in regione o dove dovesse essere la regione a gestire l'impianto. Invece nell'ipotesi in cui dovessimo essere noi come comune quelle richieste farò in modo di esaudirle per quanto possibile perché ovviamente dobbiamo essere sempre dentro procedimenti amministrativi che abbiano la massima trasparenza ma oggi un incontro con i sindacati che me lo hanno richiesto è doveroso oltre che auspicabile. Grazie a tutti.